Domani dalle ore 10 alle 22 in piazza Vittorio Veneto a Termoli approda consultorio in piazza, evento organizzato dall'Azram e finalizzato per offrire ai cittadini visite screening gratuiti. La stessa manifestazione ha riscosso successo lo scorso 10 giugno a Campobasso, dove oltre mille persone hanno usufruito della possibilità di sottoporsi a visite screening. L'importanza della prevenzione per migliorare la qualità della vita dei cittadini, da cui l'idea di portare i consultori in piazza insieme al terzo settore, quello del volontariato e delle associazioni. Il tirambulatorio sarà in piazza per prestazioni di ecografia, pap test, visite senologiche, ecografia senologica e un camper dove sarà possibile effettuare l'ecografia. Ci saranno stand che offriranno informazioni e prestazioni gratuite. La Regione Molise è una delle prime ad aver attivato un programma di screening con l'HPV test per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero. Sabato sarà possibile effettuare anche questo test gratuitamente. La prevenzione delle patologie deve essere fatta andando verso il paziente. L'idea del camper in piazza ha questa valenza. In passato si è fatta prevenzione invitando i cittadini in ospedali o ambulatori oppure raccogliendo materiale organico a domicilio. Il tir in piazza è una buona idea in quanto supera la burocrazia e rispetta maggiormente la privacy. Questo è stato il successo della campagna in atto.